ecco allora Andrea direi che possiamo iniziare noi stiamo rientrando ormai quasi tutti non so se sia il caso di presentarti perché credo sia quasi offensivo nei tuoi confronti diciamo che Andrea Monti è una delle persone più preparate nella materia e soprattutto questo libro che è suo il titolo in inglese è quello che lui ha deciso di dare al suo alla sua ultima fatica letteraria in realtà la dice lunga la dice lunga non per una vena una vis folemica a perdere ma perché dietro alla a quella delusione dei diritti digitali c'è un mondo un mondo che come sapete appartiene anche alla nostra comunità professionale e lui era stato con noi a Milano se ricordo male qualche qualche anno fa e devo dire possiamo dire usare una cosa che non si usa di solito per le cose positive a livello bulgaro sei stato richiamato potremmo dire a for all di popolo a ritornare a fare lezione con noi quindi grazie Andrea di aver accettato e buon lavoro grazie ancora una volta mi scuso di non essere lì con voi ma un ogni tanto tocca fare anche l'avvocato e ci sono delle emergenze alle quali non si può venire meno fortunatamente la possibilità di utilizzare zoom e compagni consente questa forma di di bilocazione veniamo al al merito di digital right delusion perché questo titolo per questo intervento perché dovrebbe o potrebbe interessarvi rispetto al anche al vostro lavoro e all'obiettivo di eh degli eventi di formazione di di procedamus che ringrazio nuovamente per per avermi invitato a questo eh a questo evento beh innanzitutto partirei da una rapidissima slide autopromozionale per chi ha la fortuna di non avermi mai eh sentito parlare e mi occupo di eh high tech di tecnologia e dell'informazione da mh ahimè eh oramai quasi trent'anni qualcosa in più se vogliamo aggiungere eh gli anni se vogliamo riscattare gli anni dell'università e del liceo e nel corso di questi anni eh ho eh svolto eh una serie di attività in 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 tanti ambiti eh sono stato e sono presidente della più antica ONG ad occuparsi di libertà nella comunicazione elettronica interattiva al di fuori degli Stati Uniti e prima di noi ci fu solamente appunto la Electronic Frontier Foundation a fare una cosa del genere e ho eh raccontato insieme a Stefano Chiccarelli la la storia degli hacker italiani in quello che tuttora è l'unico volume si chiama Spaghetti Hacker che eh documenta il periodo il periodo d'oro del ehm eh dell'hacking italiano diciamo dagli anni dalla metà degli anni ottanta fino alla fine dei novanta inizi duemila eh la parte successiva non si può ancora raccontare perché eh determinati fatti non sono ancora andati in prescrizione mettiamola così eh e in ogni caso per quanto mi riguarda sono protetti dal segreto professionale e non ne potrei in ogni caso parlare eh mi sono occupato di criptografia di nomi a dominio e negli ultimi anni eh ho iniziato a eh occuparmi a raccogliere se vogliamo le esperienze professionali e accademiche di eh di una vita in questa serie di libri che stanno uscendo con una cadenza abbastanza eh standard che è quella di di un libro l'anno professionalmente mh sono eh il consigliere consulente giuridico storico dell'associazione italiana degli internet degli internet provider che rappresento anche in ambito eh europeo eh insegno all'università d'annunzio eh digital law appunto e da quest'anno anche in sapienza eh identità digitale cyber security e eh privacy e come pubblicista collaboro con varie eh con varie testate eh fra le quali mi piace sottolineare eh wired.it eh italian tech del del gruppo Gedi e eh formiche.net che come forse saprete è uno dei più autorevoli punti di riferimento per di eh per la eh le analisi geopolitiche. Finita la parte di di autopromozione eh e indirettamente quella di consigli per gli acquisti per consigli editoriali per gli acquisti veniamo al eh merito di quello di cui parliamo oggi. Eh il se avessi scritto questo libro eh trent'anni fa eh cioè quando ho iniziato a occuparmi del tema dei dei diritti digitali sarebbe stato un libro molto molto diverso sarebbe stato un libro pieno di speranza sarebbe stato un libro che guardava al futuro e adesso eh il contenuto eh di questa di questa analisi eh è molto diverso molto diverso ma per un motivo molto semplice perché trent'anni fa non si sapeva come sarebbe andata a finire la storia e adesso invece abbiamo degli elementi eh concreti fattuali direi per eh capire che cosa è successo e quindi in che modo possiamo relazionarci rispetto a ehm a questo tema eh e arrivo alla questione eh della eh dell'intelligenza artificiale che è un tema sul quale al quale tengo straordinariamente perché mai su un argomento del genere si è registrata un da un lato una isteria così assoluta e dall'altro lato un proliferare di esperti eh che fino a ieri si occupavano perdonatemi la nota polemica ma veramente non riesco a trattenermi che prima fino che fino a ieri si occupavano di Gallateo del Fantino e adesso hanno eh cominciano a eh vaticinare su questi eh su questi argomenti. Alcuni aspetti puramente concettuali. Eh intelligenza artificiale è intelligenza artificiale. Leggete eh Daniel Dennett e Douglas of Stader, Lio della Mente, un libro vecchio ma estremamente interessante che chiarisce molto bene il tema. Le leggi della robotica non potranno mai essere utilizzate come invece vuole fare il Parlamento eh il Parlamento europeo per disciplinare questo fenomeno perché sono basate sull'invenzione letteraria. Vedete come si chiude il cerchio e torna il discorso di William Gibson del Cyberspace perché sono basate sull'invenzione letteraria cioè sul presupposto che i robot abbiano una soggettività, esistano, siano autocoscienti e siano esseri viventi. Se è falsa la premessa come ci insegnavano i padri della logica classica, ex falso quodlibet. Da un'affermazione falsa possiamo derivare qualsiasi cosa. Mai come nel caso dell'intelligenza artificiale la scorciatoia e la deriva etica stanno manifestando la gravità e la pericolosità di un approccio del genere. L'immaginario collettivo dell'intelligenza artificiale è affidato essenzialmente a Hollywood. Queste sono le varie articolazioni che possiamo sintetizzare in questi quattro archetipi. La I è una forma di vita autonoma e pensiamo a Pinocchio, oppure è una replica della vita umana, Frankenstein, o è una vita artificiale controllata, il Golem, oppure è un superessere, Daniel Hollywood, ancora una volta il super robot creato da Isaac Asimov nel ciclo dei robot e poi nel ciclo della fondazione. Come si concretizzano questi archetipi? Si concretizzano nel rivendicare l'indipendenza operativa delle macchine, l'imitazione dell'apparenza umana, la clonazione genetica, la replica dei processi cognitivi e addirittura il transumanesimo, cioè quella disciplina folle che predica addirittura l'autoamputazione per sostituirsi gli arti con delle protesi, innestarsi chip per poter creare un superessere. Bene, addirittura qualcuno comincia a parlare di dover trovare un modo per regolare la convivenza con le macchine, cioè trovare un modo per regolare la convivenza con l'aspirapolvere, con la lavastoviglie, con il forno a microonde, perché di questo stiamo parlando. Allora questa cosa dell'intelligenza artificiale sta manifestando chiaramente il livello di superstizione, lo dico in modo molto violento e molto diretto, del quale siamo vittima. Non siamo tanto diversi dai tempi della peste Antonina nella quale la gente si affidava al ciarlatano che con il dio Glicone, cioè una testa di serpente messa dentro un cupazzo, non fosse Rockefeller, per chi se lo ricorda, prometteva guarigioni miracolose. Il punto è che l'intelligenza non equivale a coscienza. Gli strumenti sono intelligenti di per sé, persino un coltello è intelligente, perché incorpora del pensiero, è strutturato per fare un lavoro. Certo, con l'intelligenza artificiale, ma non c'è bisogno di arrivare a quella. Abbiamo dei livelli di autonomia maggiori. Lo so Gianni, stiamo per finire, ma ce la posso fare. Abbiamo dei livelli di autonomia maggiore, ma l'autonomia operativa non vuol dire automaticamente consapevolezza, coscienza e vita. Sono concetti totalmente differenti. Noi possiamo essere vivi, come nel caso di quelle persone sfortunate che hanno delle patologie neurodegenerative. Possiamo essere vivi, ma non essere consapevoli o coscienti. E viceversa, quindi. Ci può essere competenza, come scrive Daniel Dennett in uno dei suoi ultimi libri, From Bacteria to Bach, ci può essere competenza senza coscienza. Pensate al modo in cui vengono insegnate, vengono insegnati gesti sportivi o altri atti complessi, come viene insegnato a suonare uno strumento musicale. Intanto, ripeto, in modo acritico, in modo stupido dei movimenti. Fino a quando non l'interiorizzo e magari comincio a farmi quelle domande, qualche domanda. Non necessariamente la competenza e sintomo di coscienza e consapevolezza. Ancora una volta, quando parliamo di intelligenza artificiale, stiamo giocando sulle parole. Stiamo dando dei significanti, dei significati diversissimi, omettendo a volte in modo doloso di dichiarare qual è il significato che vogliamo utilizzare quando parliamo di quel significante. Questa cosa è evidente nel regolamento comunitario sulla AI e sul dibattito appunto legato alla soggettività giuridica dell'intelligenza artificiale, perché il regolamento fa una distinzione, questa sì veramente artificiale, tra software caratterizzati da queste tecnologie e software che per contrappasso potremmo chiamare stupidi. Però vi ricordo, come vi ho detto prima, che se è caduto un Boeing 737, non è caduto per l'intelligenza artificiale, è caduto per un software stupido. Allora forse il problema non è andare a capire cosa sia il machine learning e che cosa non sia. Il problema è il problema, passatemi il gioco di parole, del responsabilizzare chi produce questa roba, a prescindere dal fatto che sia machine learning, che sia software, che sia quello che volete. E dunque sarebbe ora di smettere di dire che il software è come la Divina Commedia, perché questo è, il software è tutelato dalla legge sul diritto d'autore come opera creativa, non è tutelato o non è regolato dal codice della proprietà industriale e dall'altra normativa come prodotto. Volete una regolamento sulla intelligenza artificiale? Dite che il software è un prodotto e nel momento in cui è un prodotto sarà sottoposto alle norme sulla responsabilità da prodotto. Tradotto questo significa che se una roba è troppo pericolosa per essere messa in commercio, semplicemente non la si vende e si evita di usare le persone come cavie. Non ci vuole un intelletto straordinario per pensare ad una soluzione del genere, ma questa ha sicuramente il pregio del rispettare il rasoio di Occam. Confrontate il tutto con le tre direttive, con le due direttive del regolamento dalle quali stiamo per essere sommersi e capite qual è la differenza in termini di conseguenze pratiche e operative. Ripeto, non è astrattamente irricevibile l'idea di dare una soggettività astratta all'intelligenza artificiale. In Nuova Zelanda stanno pensando di fare una cosa del genere con le foreste e i fiumi per poter dare poi una tutela giuridica nell'ambito di un rapporto politico con le minoranze maori, ma adesso non entro nel merito. La cosa importante da capire però è che soggettività giuridica non vuol dire status di essere vivente. Se dobbiamo proprio parlare di soggettività giuridica, di intelligenza artificiale, e spero che mai ci si arrivi in ogni caso, dobbiamo parlarne nei termini della personalità giuridica dell'SPA o della pubblica amministrazione, non del considerare questi oggetti al pari degli esseri umani. Io non abbiamo più tempo per finire di fare tutto il ragionamento che ne avrebbe richiesto l'altra ora che purtroppo non è stato possibile utilizzare, però consentitemi di concludere con l'ultimo bullet point. La tutela effettiva dei diritti umani non richiede nuove leggi di diritto sostanziale nella maniera più assoluta. Richiede un cambio culturale nel legislatore, nel giudicante e soprattutto nel dibattito pubblico. Dobbiamo smettere di guardare la tecnologia come un qualcosa di inconoscibile e dobbiamo assumerci la responsabilità di conoscere per deliberare su questioni che realmente decidono della vita e della morte di ciascuno di noi come individui e collettivamente della nostra specie. Ce l'ho fatta con due minuti di ritardo. Grazie per la pazienza e per l'attenzione. Non so se avete ancora tempo o voglia per un dibattito. È arrivato un applauso da Frascatti, quindi non so se l'hai colto.